Mettere da parte le polemiche e lavorare da squadra per farsi trovare pronti all'appuntamento del prossimo anno, tutti, nessun escluso, è l'appello che arriva dal presidente del CUSI, il centro universitario sportivo del paese, che attende l'appuntamento 2019 delle universiadi. L'avvocato Lorenzo Lentini ha partecipato questa mattina alla presentazione del programma volontario al campus di Fisciano ed ha chiamato in causa tutti, anche Regione Campania e Comune di Napoli, protagonisti in queste settimane di un aspro confronto, a lavorare nella stessa direzione. Le universiadi sono una cosa straordinaria, 1959-2019 siamo alla trentesima edizione, le universiadi ritornano in Italia, ritornano a sud, a Napoli, a Salerno ed sarà una vetrina straordinaria con 170 paesi del mondo, circa 10.000 atleti, oltre 40.000 accreditati, sarà un momento importante per la Campania e soprattutto anche per noi qui a Salerno. Il programma volontario è una delle sfide di questa università, una sfida difficile che noi dobbiamo vincere, come tutte le altre sfide, perché le universiadi rappresentano oggettivamente un banco di prova molto forte e bisogna fare una squadra, solo uno spirito di squadra con i rettori, con gli Atenei, con gli enti sportivi, con il CUSI, con il Governo, con la Regione, con i Comuni, riuscirà a dare un grande slancio a questa manifestazione. Grazie a tutti.